benvenuti in questo mio nuovo video oggi siamo qui in mezzo alle brecane più disperse del veneto siamo più precisamente a fusina mancano due chilometri sono in questa zona molto caratteristica dove una volta mettevano le barche con il carrello per andare a venezia sono qui insieme a lake c chitati con le braghe da rinduro perché oggi devo trovarmi con la mia amica che ha un mezzo perfetto per far enduro che dopo dopo lo vedrete appunto la porterò nei dintorni di fusina così da passare un pomeriggio diverso dal solito eccola con salve ma lei è venezia senti il sound della potenza bene siamo arrivati a fusina 40 minuti penso che se al posto della sella avessi un palo potrei stare più comodo bene allora abbiamo fatto uno shooting qui in quel di fusina tanto abbiamo la signorina che si sta vestendo abbiamo tutti e due le magliette calienti non si vede un capo e si vede messicano se stai guardando questo video mi raccomando a me basterebbe un cartone di queste magliette per andare avanti per un po troviamo un attimo indietro per di qua dove c'è la chiusa di moranzani tagliamo e andiamo dalla parte di là dove ci sono quei campi guardatela insieme alla pagherina oggi in penna in piedi oddio senti che buon profumo teoricamente non vorrei dire una boiata ma si potrebbe passare di qua la portiamo a spinta bellissimo vai spingi mi sto pensando il piede da solo brutto deficiente riccardo eccolo vuoi una mano madonna che boss è per sincronizzare che poi non è che sia in duro sono due o tre stradine in mezzo ai campi probabilmente che sono in piedi o si vedrà un cazzo ecco che parte il primo pezzettino in duro stai in piedi guarda che roba madonna che stuntman punti caratteristici qua hanno trebbiato pannocchie mi sembra anche abbastanza al suo agio va 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 che percorsi emozionali ah qua hanno spinto un po' di me porco cazzo ma quello è nudo what the fuck bro dove ti ho portato in mezzo alle brecane da quando i fagiani correre saltano così porco dia attenti fossi che io sono già abbastanza amichevole quei fossi appunto no tu vai avanti un po' là va vai 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 piccola tortellina sembra un po' guro allora adesso devo appoggiare la moto perché devo fargli vedere come fare un burn out ti insegno freno premuto davanti devi stare bello avanti col corpo gli dai un po' di gas e c'è lì ma se a me io non tengo un cazzo c'è il freno tu qui stu qua devi stare ferma se no non fai un burn out hai fatto un altro? no 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 allora accendere un po' e lasci la frizione lascia la frizione brava vai 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 brava brava no l'hai fatto frecane dove c'hai? dove è che l'hai tiato poi il telefono? no no oh è aperto no no non andare dentro hai capito basta che non lasci il freno perché se lasci il freno vai a finire là oh dio oh mio dio un po' affannato che figata dammela un attimo che provo quella tua prima ma questo è racing e gni gacker adesso mi ammazzo è un po' più difficile quella tua questo è un po' un passo oltre ci proviamo? ci proviamo beh se nessi questo guarda ti facci i miei complimenti la tieni leggermente inclinata ma pesa? lascia quella frizione porca troia si diciamo che che mi tiri la mascherina da qua porca troia ti no a morte sembra che mi sta maltrattando basta 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 l'hai anche mollata sei un fenomeno questo è sorgo no no non è sorgo è che cazzo di pianta è questa allora sono sudato anche il buco del culo pannocchie ah queste qua l'altra volta non c'erano ahia dio caro vediamo se c'è acqua che se c'è acqua è un cazzo no no scialla scialla c'è qua dopo bisogna pertegare un po' perché è un pochino bagnato di solito qua è pieno di acqua fino a qui oggi siamo letteralmente circondati da brecane con 150.000 zanzare che mi stanno mangiando non salve come va l'enduro? adesso vado avanti prima io e dopo ti aspetto cioè non venire dietro subito eh porco ui guarda che mistieri ciò che dio siamo letteralmente in mezzo alla me dai cosa dai ma sei in centro là ok ok ora cazzo duro vai 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 mi hai fatto passare ma che sono passata anch'io là è un po' altino qua perché mi guardi in quella faccia scontanizzata ho paura che serenità che pace che sanse abbiamo giocato la flora e la fauna caratalistica i gabbiani i piccioni che si vogliono riprodurre tranquillamente le palme sembra di essere il sud america i saraghi che cercano l'acqua non chiedetemi perché la chiamo sarago però vabbè lasciamo stare la tentazione di andare in mezzo là è tanta solo che da là poi non vengo più fuori alla fine siamo venuti fuori un'altra volta qua perché di là mi ha severamente costretto a non passarci un'altra volta eccola Dio guarda che bella grande la nave la serata si sta concludendo siamo qui a vedere il tramonto non so che cazzo di sunset sono arrivati appena adesso due tipi probabilmente avranno un cadavere da far smaltire qua in mezzo al niente ci guardiamo il tramonto e poi andiamo verso casa probabilmente a lavar la moto visto che è in condizioni pietose bene abbiamo fatto anche le sette e mezza direi che possiamo anche andare a fancù sta scendendo il buio io non ho la felpa e ho la mascherina blu che non vedo un cazzo non so se voglia lavare la moto visto che abbiamo direttamente il tetano sotto oh la targa è andata sotto Dio caro Tostina oh vale che la targa è andata sotto ma io cosa ti ho detto prima fissala di più e tu non almeno ah no un meccanico qua dentro si mi stanno mangiando vivo mi stanno mangiando dappertutto ti stanno mangiando dappertutto mi sto fissuto fino alla morte beh se la morte si riesca tutto via 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 ma mi stanno mangiando le zanzare ma proprio ma proprio ma proprio Grazie a tutti.